Un contratto nazionale è scaduto ormai da 18 mesi e pochissimi spirali all'orizzonte, nonostante mesi e mesi di promesse. Questa mattina alla mezzia termi i lavoratori dei consorsi di bonifica, sostenuti da tutte le sigle sindacali, come promesso hanno avviato una protesta che coinvolge anche altre regioni del sud Italia, come Basilicata, Puglia e Campania. Al centro, la vertenza con lo snebi, il sindacato nazionale enti di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario che di fatto ha rifiutato l'aumento contrattuale proposto del 6,7%, ma le sigle sindacali chiedono più ampie garanzie anche per gli operai a tempo determinato. Mi concentrerei sul fatto che siamo da 18 mesi senza contratto nazionale, quindi oggi oltre a noi sta scioperando la Campania e la Puglia e il 5 sciopereranno altre regioni italiane e se non dovesse proseguire o meglio non dovesse riprendere la trattativa rispetto al rinnovo faremo uno sciopero nazionale il 20 luglio a Roma. Siamo qui insieme e ci auguriamo che anche oggi vengono approvati i piani di classifica nel Consiglio regionale che riguardano appunto la bonifica. Vogliamo insieme CGL, Cisla e Will di categoria 5 fly e Will portare avanti le istanze di questi lavoratori, tutti i lavoratori, i nostri iscritti di tutti i lavoratori della bonifica per cercare di rilanciare realmente in Calabria, in questa martoriata Calabria, il settore della bonifica che riteniamo centrale insieme appunto a quelle situazioni legate al dissesto.